Nuovo appuntamento con il rapporto Casale, la trasmissione con il vice sindaco di Caserta Emiliano Casale, che ringraziamo come sempre per l'ospitalità. Buongiorno a voi. E allora vice sindaco, partiamo da un tema, un tema che arriva dal nazionale, il saldo tra imprese che aprono e imprese che chiudono negli ultimi dieci anni, parliamo 2013-2023, questo è il range, posiziona Caserta, ed è una notizia positiva, Caserta come provincia naturalmente, tra le province migliori con un saldo positivo tra imprese che sono nate e imprese che hanno cessato la propria attività. Nuoro, Napoli e poi la provincia di Caserta. All'interno dello studio, e qui arriviamo alla domanda che le volevo rivolgere, è stato scoperto che in provincia di Caserta stanno aumentando sempre di più gli esercizi commerciali di vendita e di somministrazione legati al turismo, quindi non solo turismo enogastronomico, ma in generale proprio imprese che si occupano di turismo, di incoming, di B&B, eccetera, eccetera. Questo che significa e soprattutto va in direzione verso quel piano, quel blocco, quel progetto, quel comparto turismo che voi state mettendo in campo? Ma questo significa che abbiamo individuato la strada giusta dal 2018, come voi ben sapete abbiamo ripetuto più volte il tavolo del turismo istituito nel 2018 con tutti gli attori del territorio che va avanti costantemente. Resta il fatto che la pandemia ha fatto emergere tramite una richiesta di codici da parte della regione campagna verso i comuni di attività da dover sostenere per il post pandemia una serie di attività legate al turismo e quindi mi rivolgo prevalentemente ai B&B, alle case vacanza, che a Caserta contano 200 unità, oltre gli alberghi, oltre i luoghi che appunto ricevono persone che sono di passaggio per lavoro, ma soprattutto per il turismo, dove la Regia è il maggior attrattore, ma non solo, c'è anche il Belvedere e Caserta Vecchia. Questo ci proietta, come è stato detto anche ad un convegno a cui ho partecipato nei primi mesi dell'anno, gennaio per l'esaltezza, con la regione campagna che si è occupata di una serie di analisi all'interno delle varie province, soprattutto dei comuni capoluogo e che porta da un'analisi fatta insieme all'Università Van Vitelli, la città di Caserta come la città turistica subito dopo Napoli. Quindi questo ci fa capire in quale direzione l'economia locale si sviluppa. Non solo in provincia, ma nel comune capoluogo. E infatti l'aumento dei B&B e delle case vacanza, oltre che gli alberghi sempre pieni, come ci viene comunicato anche quando ci incontriamo al tavolo del turismo, fanno sì che la città deve orientarsi in questa direzione. E per orientarsi in questa direzione inevitabilmente ci sono delle attività commerciali che si sviluppano sul territorio, soprattutto con la vendita di prodotti tipici. E mi rivolgo all'aspetto enogastronomico ed alimentare. È chiaro che vediamo in centro città sempre più attività di somministrazione del food. Non dimentichiamoci che Caserta ormai è diventata la capitale mondiale della pizza. E questo porta enormi attività di pizzeria, investire sul territorio, anche di pizzeria importanti che da Napoli hanno deciso di capire delle filiali qui, oltre che alle nostre eccellenze del territorio. E chiaramente questo genera lavoro, perché dietro un'attività di ristorazione ci sono cuochi, camerieri, fornitori. Per cui esiste un mondo economico, enogastronomico, che si sta sviluppando in questo territorio. Ovviamente l'amministrazione deve indirizzare e convogliare non solo questi tipi di attività, ma anche altre attività che servono ad affiancare l'aspetto turistico, che possono essere anche la vendita di souvenir, di prodotti tipici, lavorare sulla seta, che è un prodotto tipico del territorio ed esclusivo, e quindi lavorare in questa direzione. Ovviamente, mentre si lavora in questa direzione, bisogna lavorare sulla vivibilità della città e quindi lavorare sulle infrastrutture. Siamo nella ristrutturazione completa del Belvedere di San Leucio, su Baccheria stiamo lavorando, su Caserta Vecchia stiamo lavorando con il progetto di rigenerazione urbana, che a breve porterà il percorso interno al borgo tutto rifatto, la ripiantumazione della pineta. Quanto tempo più o meno avete preventivo? L'anno in corso partiranno i lavori. Ovviamente, stiamo anche lavorando per la risoluzione dei problemi. Due sono i problemi che in questo momento la città ha in sofferenza, ma che abbiamo sul tavolo e stiamo arrivando alla conclusione, una problematica legata ai parcheggi, alle aree di parcheggio privato per pubblica utilità e un'altra problematica è la sicurezza stradale, che non è solo quella per i cittadini, ma è anche quella per chi viene da fuori. Nel frattempo che si realizzano le pestici labili abbiamo iniziato il progetto di otturazione delle buche prossimali, lì dove sono presenti i stali blu e i stali gialli tramite la ditta la Capacity che si occupa di questo. In questi giorni, purtroppo, alternata la pioggia, perché poi la pioggia genera inevitabilmente dei blocchi e delle ripartenze dei lavori, stiamo cercando di colmare la maggior parte delle buche. Nel frattempo abbiamo ottenuto un finanziamento da 5 milioni per il rifacimento di ulteriori 18 strade quest'anno che ci consentiranno di di asfaltare le strade. Un ennesimo finanziamento. Ne abbiamo fatte già 20 nel 2023, adesso ne facciamo altre 18 e stiamo cercando di recuperare altre risorse per intervenire su arterie importanti. Ovviamente sappiamo benissimo che il problema, essendo Caserta una città abbastanza bassa, non fatta solo di centro, ma fatta anche di 23 frazioni, quindi è giusto dare il giusto supporto anche alle strade delle frazioni, ma prevalentemente al centro dove arrivano i turisti e dove si sviluppa di più la vita. È chiaro che qui ci sono due problematiche. La maggior parte di queste strade hanno visto la loro realizzazione nei primi anni 2000, sono passati quasi 30 anni e è chiaro che un intervento di completamento ex nuovo di strade va fatto, perché la riparazione della buca è una riparazione temporanea che serve a garantire un transito dei veicoli in modo sicuro, ma non è definitivo, perché poi il vero problema che noi abbiamo è legato alla rete foniaria di questa città ormai obsoleta, che ha più di 50 anni di vita. Spieghiamo una cosa infatti, che quando il comune ottura le buche oppure provvede al rifacimento di una strada dal punto di vista del tappetino stradale, non è detto, esempio via Tescione, che non si verifichi nello stesso posto dove c'era la buca un'altra buca. Questo è un problema legato ai sottoservizi, cioè quello a cui accennava lei, alla rete foniaria, alla rete idrica, alla rete elettrica, ai lavori continui che ci sono stati poi per l'open fiber in questo periodo, quindi una serie di situazioni che naturalmente il comune non può intercettarle tutte, o mi sbaglio. È evidente che... E che vi portate dietro da 40 anni, credo, cioè ci portiamo come cittadini. È evidente che se una rete foniaria è obsoleta e ovviamente ha bisogno di essere completamente ristrutturata, il nostro intervento sulle strade sicuramente viene fatto, ma non è poi risolutivo perché avvengono quei famosi sprofondamenti che avete visto. Quando vedete delle buche che sono circoscritte da reti arancioni, quelli sono dei sprofondamenti in fogna. Non è più un problema legato all'otturazione della buca, ma è legato a dover creare uno scavo, andare sotto, chiamare la ditta, in questo caso l'Italgas che si occupa della gestione delle rete foniaria, sistemare quel pezzo di rete foniaria e poi andare a fare un lavoro di asfalto. E questo sta accadendo in molte parti della città, sia sul basolato, sia anche sulla parte di cemento semplice di strade. Ovviamente noi, sapendo che c'era questa problematica, già da un anno e mezzo siamo riusciti ad avere una disponibilità da parte della regione, di una riqualificazione totale dell'impianto foniario. Parliamo di più di 25 milioni. Ovviamente abbiamo chiesto all'Italgas, che è la società che gestisce la rete idrica in città, scaduto il contratto di darci l'impianto al comune per poter poi fare questo tipo di intervento. E qui è nato un contenzioso con l'Italgas che noi abbiamo chiesto la restituzione dell'impianto e anche una mappatura dell'impianto, mappatura che ad oggi non ci è stata consegnata, che l'impianto non è stato gestito da noi. Nell'emore che venga chiarita questa posizione con un finanziamento già acquisito che andrebbe a ripristinare tutta la rete foniaria della città di caserta, quindi ex novo. Ovviamente noi interveniamo con le urgenze nella riparazione delle buche e negli interventi che noi facciamo in maniera quotidiana, soprattutto quando avviene, come ho detto prima, questi sprofondamenti in fogna per colpa della rete idrica ormai obsoleta. Nel frattempo, dopo le 20 strade del 2023, abbiamo già messo in gara le altre 18 arterie e stiamo lavorando per recuperare altri soldi per altre arterie importanti della città ad alto traffico, in tendenzità di traffico, arterie che vedono gli ingressi e le uscite dalle città, perché poi Caserta non è solamente vissuta dai cittadini di Caserta, ma un comune capoluogo che ha qui tantissimi uffici e tantissime persone che arrivano e che chiaramente vengono da tutta la provincia, anche dalla regione, quindi è evidente che quelle arterie sono importanti. Nel frattempo non ci fermiamo e tempo permettendo cerchiamo di tamponare quelle strade che ormai sono completamente usurate con delle buche che consentono semplicemente di far camminare le auto in sicurezza, ma che non sono però la soluzione finale perché tutte queste arterie vanno rifatte da capo. Un flash rapidissimo, il progetto dal primo marzo è partito, c'è quello di individuare che i cittadini possono effettuare le fotografie e inviarle direttamente ad un numero di telefono? Al momento il progetto che è partito è, oltre ovviamente alla ditta Capacity che dal lunedì al venerdì e dal sabato e domenica in emergenza gira in automatico con un proprio furgone, un proprio camion con un programma di lavoro fatto, ovviamente in tutte le arterie della città dove sono presenti le strisce blu e le strisce gialle, a sistemare, a colmare in maniera prossimale quelle buche che sono abbastanza evidenti e che chiaramente non siano degli sprofondamenti. Mi scusi, per le altre strade naturalmente... Per le altre strade invece dobbiamo intervenire noi come comune e anche in questo caso stiamo lavorando, adesso che approviamo il bilancio, lavoreremo anche noi a colmare invece la riparazione delle strade... Delle buche stradali... Delle buche alternative che fa tempo, programma arterie stradali nuove e quindi cerchiamo di seguire pari passo questo percorso, anche perché ovviamente fare delle ciclabili ma non garantire una giusta mobilità è evidente che le cose devono andare di pari passo. Non potevamo perdere l'occasione che ci ha dato l'Europa con questi fondi PNRR che ci consentono di poter realizzare 18 km di ciclabili e quindi di garantire anche ai pedoni e anche a coloro i quali vanno in bici un anello di circuito che possa portare le persone a camminare su una città pianeggiante come Caserta in totale sicurezza. E' completo dicendo che per fare questo c'è bisogno chiaramente di creare dei posti auto e quindi quei famosi blocchi ai margini della città, mi viene in mente il parcheggio Poglio, proprio oggi siamo stati in prefettura, abbiamo fatto un ulteriore tavolo, ritengo che la settimana prossima l'argomento sia definitivamente risolto. Allo stesso tempo... E quindi con la riapertura quando? Con la riapertura mi auguro in tempi strettissimi il mio auspicio farlo prima di Pasqua, ma se non ci dovessimo riuscire prima di Pasqua parliamo di qualche giorno dopo. Ma per noi l'iter ormai è definitivamente completato. Stesso discorso su Caserta Vecchia dove dobbiamo affrontare il tema parcheggi perché si sta per avvicinare la stagione primaverile-estiva e garantire alle attività una possibilità di poter parcheggiare. E' anche vero che le aree sono delle aree private dove insomma ad oggi ancora non c'era arrivata alcuna proposta dai privati che ci hanno voluto incontrare per capire com'era la situazione e ci hanno comunicato che a giorni qualche privato avrebbe mandato una proposta per creare un parcheggio ad uso pubblico, quindi pubblico-utilità. Ma noi ovviamente ci muoviamo anche come comune e quindi chiederemo un incontro con diciamo tutte le forze pubbliche per trovare una soluzione a far sì che ci sia appunto una soluzione anche temporanea nell'attesa che noi insieme diciamo ai proprietari delle aree troviamo stiamo già lavorando per una soluzione definitiva e chiaramente garantire anche questo. Stessa cosa del 4 novembre. Il 4 novembre è un altro parcheggio importante per la città e un interscambio importante soprattutto per moltissime attività che lavorano lì in zone che hanno necessità di parcheggio che è venuto meno il parcheggio adiacente al muro del Macrico perché è nata la ciclabile è nata un bacio a piedi ex novo, nascerà chiaramente lì la ciclabile quindi è venuto meno i posti auto dobbiamo garantire anche lì la riapertura di quel parcheggio e anche lì abbiamo affidato i lavori alla ditta che ha vinto la gara e quindi a breve cominceranno i lavori e comincerete a vedere anche i lavori che non saranno solo del parcheggio ma saranno della riqualificazione dei porticati lì sopra e soprattutto della riqualificazione soprattutto di immagine per un monumento a noi caro che è il monumento ai caduti. Apertura prevista per quanto riguarda il 4 novembre? Stiamo seguendo l'iter insieme alla società che ha presentato il progetto di essere aggiudicato con il progetto di finanza ed è evidente che noi cerchiamo di farlo quanto prima lì è un parcheggio completamente... Cioè entro 2024 lo riusciamo? Io mi auguro che possiamo arrivare in questo dato, quantomeno un pezzo, almeno l'apertura del parcheggio me lo auguro perché c'è veramente tantissimo lavoro da fare però anche lì abbiamo identificato quello che sarà praticamente un altro parcheggio insomma di interscampo. E non dimentichiamoci, ultima cosa ma non meno importante, abbiamo un parcheggio, il famoso parcheggio che si trova interrato lì a ridosso della reggia che contiene più di 900 auto e vorrei ricordare a tutti che abbiamo un progetto finanziato e quest'anno inizieremo i lavori lì dove c'era l'excanarificio del terminal bus per... 30 milioni di euro, questo è un finanziamento regionale, ne ha parlato anche il governatore ma ci sono novità perché poi anche l'amministratore di Aire recentemente ne ha parlato però ancora non si muove niente. No, il progetto è stato finanziato, è stato presentato, deve essere approvato dalla regione e quindi poi dovrebbero partire i lavori. Quindi voglio dire, la programmazione delle infrastrutture c'è, c'è una piccola apertura del Policlinico, l'abbiamo letto sui giornali, ce l'ha comunicato il rettore della Manvitelli e quindi ci sarà con la regione questa apertura di un paio di aree del Policlinico e questo è un grande segnale. Il lavoro sulle infrastrutture lo stiamo facendo e non è dire diremo, faremo sono soldi che sono stati appostati che richiedono ovviamente dei lavori e richiedono ovviamente del tempo. Nel frattempo lavoriamo sulle emergenze, sulle criticità quotidiane nel frattempo il mondo cammina, il turismo si evolve a giugno completiamo il Belvedere, ci sarà una stagione di eventi meravigliosa, importante in un momento in cui i finanziamenti per gli eventi sono ancora al palo per questa diatriba che si è creata tra il governo e la regione, mi auguro che si sblocchi presto e che la regione possa avere questa possibilità di gestire i fondi e possa chiaramente riversarla su tutti i comuni della campagna nel frattempo però noi non ci siamo fermati e stiamo pianificando un lavoro estivo grazie ai privati che vedrà tra il Belvedere e la reggia di Caserta e Parco Maria Carolina, già una serie di eventi che coinvolgeranno tutta la città e non solo. Si fermi, ne parliamo la settimana prossima perché altrimenti sono troppi gli argomenti in questa le auguro buona giornata, buon lavoro. A voi. Grazie. Grazie. Grazie.